E' corsa contro il tempo per sistemare quello che in origine era uno dei mantirbosi misto naturale sintetico migliori in Italia. Stiamo parlando del terreno di gioco dello stadio Vincenzo Presti di Gera. Dopo la fumata nera di alcuni giorni addietro da parte dell'ispettore della Lega, dunque mancata omologazione, bisogna fare in fretta perché è realmente la maggiore espressione calcistica locale che si appresta a disputare il campionato di 3D rischia di emigrare. Oltre al campo bisogna intervenire anche in sala stampa e nei locali adibiti all'infermeria e all'antidoping. C'è una mozione che giunge all'amministrazione comunale da due consiglieri, si tratta di Crocivisto Napolitano e Slavatore Scerra. Interventi immediati per quanto riguarda il mando erboso, visto che gli ispettori della Lega non hanno dato l'omologazione dello stadio e soprattutto poi rifare la struttura sia della tribuna stampa che dell'infermeria e gli ispettori soprattutto che sono vestiti in condizioni igienico-sanitarie non consone. E voi chiedete che l'impianto venga gestito soltanto dal gelacalcio? Diciamo che è una delle priorità perché in questi ultimi anni lo stadio è stato succalzato da tante società, sia società minori, calcio giovanile, ma soprattutto prime squadre che tutti vogliono giocare al Vincenzo Presti. Per noi questo determina lo stato di abbandono dello stadio, visto che non è stato ancora manutenzionato negli ultimi anni e quindi noi chiediamo che venga affidato solo e esclusivamente alla prima squadra della città, cioè al gelacalcio. E le altre squadre dove andranno a giocare? Le altre squadre si farà un calendario, potranno giocare all'Enrico Mattei, visto che ha l'omologazione per giocare fino a camminati di promozione, quindi dalla terza categoria della promozione. Invece per il settore giovanile bisogna parlare anche con il campo che c'è in via Recanati per cercare di far sì che le squadre possano giocare anche lì. E chi dovrebbe intervenire nella fattispeggio per ripristinare il campo sportivo Vincenzo Presti? La ditta Limonda che ha effettuato i lavori, però voci ci dicono che praticamente la ditta ha un condensioso col comune, in particolare con la vecchia amministrazione, ma ovviamente la nuova amministrazione deve farsi carico e deve regolamentare questo condensioso perché altrimenti loro non possono effettuare i lavori e non verranno ad effettuarli. Se questo condensioso non andrà a buon fine, che succede? Succede che rischiamo intanto di giocare le prime partite fuori casa, che il manderboso non venga rifatto e quindi diciamo che oltre il danno la beffa per una città che merita comunque la Serie D e quindi andremo a giocare fuori casa.